online c'è chi si chi è si chi è dire che si chi è a dire che si chi è a dare a dare a dare a fare il vero devi condividere che siamo live che palle le sopporto spero fai cazzà subito vedi vedi a settembre si fa in serie è vero che agosto ancora è vero va di tutto no per di vista è vero è bene non essere mai chiari no io voglio prendere una minoranza etnica dai prendo non ce lo faccio la foto stai ma lì c'è leggete leggera riserva che vede che è bello giallo il giallo dentro o se la storia di michele ecco leggi che perché io non ho corrette finalmente in le cipolle c'era anche nell'uno pezzi capito che la gina g negro ha beccato detto necroni amico perché c'era una bella ricetta la zuppa la merda a e per la realtà mi ha dato questo cosa dice pao pao che stanno rifacendo le solite battute più ci sale olio quindi liscia farina taglio paura di pasta poi coprino con un panno umido a proposito hai pensato anche alla merda prenda davanti un merendino bix totti queste chili di rossi toste cattivi l'altro pezzo di merda non potete vedi è anche rotto comunque e vedi che è tutto inclinato da una parte è anche quello che c'è la merda qui è merdoso perché c'è un dislivello in ur tu puoi essere ma si può schifar andiamo schifar un po' ma ci porta la sera ci porta la sera e a tasti vediamo tu l'insalata l'italia passano l'insalata cosa si figlia ok si figlia con la x dammelo 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 dal piatto tieni oh vai mettilo in piattolo in piattolo e vai a piattolo in piattolo che è il blu è qui capito ma come quello che ha portato c'è la cambierà questo qui andiamo vanno a mettere e tutorial mariana leone se peggio che buono di dintakashi sepe da cazzo di chi è che è quello che fece una figura di merda che non riusciva a fare il tutorial di caped siamo qualcuno no bisogna mischia l'insalata con il pomodoro vai vai consegna dov'è la ammega vieni merda il comodoro questo anche col cirriolo il pomodoro il cirriolo 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 impiattano lì vai no va mettere già nel piatto ciò promette che te sei ovunque è capito piatti forza piatti forza forza insalata piatti dai oh oh un'altra insalata l'insalata è pronta portate dai mi date qualcosa la tagliacca nelle messe oh oh insalata pomodoro mettere questa insalata nel pomodoro e poi dai consegnala un'assuga datemi un piatto datemi un altro piatto è un'insalata datemi una e allora qui ci vuole il cirriolo eccolo datemi un piatto merda vai questo è l'insalata vai è pronto consegnare anche l'insalata forza grazie cirriolo vai si è preso il via oh aspetta 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 te lo do come l'ha fatto a metterlo lì non lo so non chiedere ma guarda consegnatelo è pronto se manca un cirriolo è qua giù ce l'ho nell'angolo aspetta aspetta ma come fai a metterlo lì oh che duro non l'hai in quel lato più lontano no oh il cirriolo lo fate cani di no te hai dei problemi però oh allora maledetta la misera si si fa si fa fanno un altro dai si fa fanno un altro facciamo quello da tre che vale più forza taglia il citriolo il pomodoro te lo do io vai il citriolo lì dentro e consegnare e poi ci sei ma è finita ci ti fa ci si prova insalata al volo vai consegnano vai a posto poi allo scadere questo tutorial abbiamo scoppiato hai dei problemi proprio di motori eh perché con questo lo chiedi sono qua proprio il quadrato e non ho bisogno al quadrato salto di un po' acido ah il parolone ah qui ancora si amata tutti il bus vabbè basta che uno lo fa alessio vai no ma perché esatto mi hai fatto mi hai fatto guidare lo sai che lo devi fare 400 come fare i sashimi capito si taglia il pesce e è pronto il sushi lecce da fanasega quindi però c'è sia la coda che il pesce le gambe gambero lì gambero e il pesce vabbè gambero e il pesce su due ecco il pesce no eh si solo il pesce ci vuole se è tagliato lo metto lì da solo lui ok vabbè questo io penso che sia facilissimo ma perché ci sono dei tizi qua giù cosa sono? che fanno? guardano? no no sono quelli che chiedo io sto guardando vuole questa aspetta mettete un piatto lì un gamberone gambero no no ah si è arrivato tutto ok vai questo segnare che taglio segno io ma perché sono un topo che avevo scelto il cinese? non importa eh no porta una sega sono al solito poi scelto il cinese gamberone faccio io? ok vabbè io porto piatti guarda dai uno prepari il pesce taglia 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 le gamberi io consegno su porto piatto vai ho portato per questa amazione il pesce ancora no pesce ancora no aspetta il pesce permalo il pesce lo consegno piatto oh gamberone questo pesce ok si può fare lo faccio io stai qui aspetta no aspetta e qui gamberone vai un altro gambero un altro gambero dai lo faccio ho un pesce piatto pesce piatto qui dai fermo 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 che squadra aspetta dai aspetta dai gambero vai arriva arriva consegnalo vai già che ci sei gambero un altro gambero anche stavo giusto abbiamo già tolta abbiamo già fatto quello che ci serviva per me si può anche mandare in culo clienti e chiudere per così gambero no gambero si è scoppiato si è scoppiato taglia 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 molto più del doppio di quello che serviva è soddisfatto perché è facile poi guardavo verranno momenti peggiori di tipo quando bruciato un gambero dice di scopriato è un piatto per pesce di altro pesce pesce e chiedi e osido il gambero il pesce può attendere patatine vai basta si consegna queste si fa no se è vecchia battuta che fa sempre dire fine riale mille mille è disintegrato io voglio il cinese può cambiare no 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 non tocca a nulla ma lasciamo perdere dai rimango col topo pace assomigliare guarda qui la tua storia 460 pigiassi quindi pesce e il riso perché va cotta nella ventola e quindi poi vanno messi insieme per fare il sushi questo è già difficili per me anche per me con l'alga non abbiamo dueci anni allora il riso va bollito pesce uno bolle una bollisce il riso dai anche l'alga che lo vada tagliata ma io taglio larga no no non va tagliata no ma soltanto come sta bene quindi io io mi preoccupo di riempire agliari di pesce tagliato serve il pesce qui ok questo va bene fai tu sciocato zero proprio sole quindi riso 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 e piatto da che riesce a ascoltare solo io mi occupo di alga e impiattare consegnare io io taglio il pesce lo lascio qui su tagliere io riguardo almeno almeno il piatto qua mettete qua giù che c'è un'alga mettetelo lì il riso ma questo riso in terra chi ce l'ha lasciato via 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 no mi sa che sul piatto stiamo 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 un riso qui c'è io c'ho un pesce qui avete visto sul piatto c'è un riso puntati la posi mangiacchi taglia fai ok lagas e dai 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 dalto ho fatto che il pesce qui ma il fio di fatto fai fatto al cha e via ok il riso è tutto il riso ma tutto va su tutto qui non si può sbagliare anche il riso abbiamo già vinto siamo già freddo quindi possiamo anche andare tranquilli la mia passeggiata copiata fai il riso è un riso! l'ho portata a casa la serata ma chi è quello che rompi cazzo che è? è free open no? ti manca riso eh? mettete un po di riso in questi cannoli è pronto, è pronto, è pronto il riso ci vuole un po' non è che coci subito no me l'ha fatto buttare dove l'ha buttato? nel cestino perché? in effetti te ne piatti qui vicino è rischioso basterebbe non essere duri ho capito ma se mentre vado lì te me lo levi? no il riso servevi abbiamo finito è decisivo eh lo recupero dai facciamo l'ultimo riso si può anche chiedere ah non ci si fa più credo dai basta è finito state levatevi dal cazzo si chiude stasera è finito l'ho già fatto troppi storie facchiamo un po' tutto vai non c'è il sitone? si si c'è c'è no non ho preso il tempo mille milo vabbè osce chi lo dice per primo? nessuno perché qui siamo politica di corrette chi lo dice per primo? cosa facevo il riso ma è tutto a posto vai via portatemi il riso a chi fa cosa portali il riso a me portatemi i zucchini per favore su un piatto ci va l'alga sull'altro no 2 2 com'era lo buttalo qui buttai vai perché ha il riso io ci rivolgo e i piatti vai ma chi è giallo e viene via a rompere oggi dalla tutta prendo un piatto io ma è sempre il riso questo è consegnabile vai a questa da solo è consegnabile riso riso per tenere lì però ci vuole un al volo è vista per la vista il cetriolo lì c'è un'area di rioli e di un paio mettetemi un rito non è uguale levatevi dal cazzo ha preso no dio questo da no non c'era nell'uno vai vai qui cetrioli ci sono riso riso lì il verde si levi dal cazzo il riso va lì chi è il verde so io vai gamberone da sé ti dammi un riso che lo farò il blu lavi quel piatto eh oh è subito no vada cetriolo perfetto lo taglio l'altro riso a croce riso riso e l'alga ce ne metto io cetriolo oh appena c'è un piatto c'è un gamberone da consegnare qui sai vedere il riso dove sono io al giallo portare il riso vai ti assoluto lo faccio io vai 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 consegnalo va bene io me lo lavo vai lavo il piatto ok qui fermi lì eh ci vuole un'alga va riso da coce l'abbiamo scoppiata eh vai facciamo un po' to me l'hai messo mentre tagliamo il gambero te l'ha messo nel gambero eh vai consegnalo va bene dai dai ma c'è per due riso metti il riso lì dentro il piatto perfetto aspetta aspetta piola oliva questo è consegnabile sì va bene riso mettere un piatto lasciatemi un piatto faccio un gamberone vai consegniamo solo il gamberone e si chiude fine vai ci si fa un po' questa volta però diciamoli di chiamare prima di arrivare alla per la cia come è per la cia eh non si sa non si sa dai dai ora è quattro meglio di quando si meglio si si quanto ci può sapere il riso andavamo ci sono tanta gente eh sì il livello speciale sì ascolto avete sbocato andiamo subito corri scopri interruttori ma non puoi andare a è un figlio sta ah ci sta per più bello eh sì metto una canzone gli viene il gommone quando va eh come l'hai visto hai visto coglione è è è